I manoscritti affermano che la salvezza arriverà con una tempesta e che il tuono e il fulmine sconfiggeranno il male per sempre. È un calice. Molto speciale. Devi ritrovarlo e consegnarlo ai cavalieri che lo custodiranno. Prometti che lo riporterai in Spagna. Partiremo all'alba. Mi schiaccio come noci. Dimmi dov'è il calice e ti risparmierò la vita. Ti ha mandato lui, vero? Jonathan Black. Capitano Tuono non è solo un crociato, è il segno sul collo. Tuono! Controllate se qualcuno è vivo! Chi ti ha fatto questo? I demoni. I demoni neri. Dovrai uscidermi prima, ma non sarà così facile. Spero che sappia il fatto suo. Lo verificheremo presto. Credito per conseguenza, the visionistры in Spagna, è stato uno come gra, è stato un nonno. Ah, maleghe... Grazie a tutti. ICA Grazie a tutti.